ciao a tutti e benvenuti a gioca con me giochi per bambini in questo video voglio far vedere questo nuovo gioco che è appunto della disney è stato prodotto da imc toys come potete vedere qui al lato ed è per bambini sopra tre anni cos'è beh è una cassa è una cassa di mini come quella dei supermercati e vedete che sarà comunque sicuramente divertente giocare per esempio anche con i vostri amici o con i vostri fratelli e sorelle uno di voi potrà fare quindi il cassiere e l'altro sarà cliente e viceversa e ora vi farò vedere com'è prima di tutto ecco qui il kit aperto vedete ho già messo anche dentro le batterie quindi le pile che servono purtroppo nel kit non c'erano quindi ho dovuto metterne di mio e credo che sia sempre un po' un peccato perché soprattutto se diventa un regalo di natale alcune volte non si hanno le batterie giuste in casa quindi bisogna aspettare che i negozi riaprano tutte queste cose però insomma vi faccio vedere prima di tutto le funzioni che ci sono e poi vedremo con le batterie come sarà prima di tutto quindi abbiamo questo tappeto vedete che è come quello dei supermercati quindi girando la rotellina qui al lato lo facciamo scorrere vedete quindi mettiamo i nostri prodotti sul nostro tappeto questi roteranno poi abbiamo questo nostro scanner che quindi ci leggerà i codici a barre dei nostri prodotti poi naturalmente abbiamo tutti i nostri tasti quindi i numeri con il più o meno per diviso la virgola uguale il tasto per aprire la nostra cassa poi abbiamo questa penna con le scarpine di mini vedete che carine naturalmente vedete qua sopra abbiamo altri tasti che sono quelli del c quindi per cancellare la musica un microfono qua naturalmente il tasto per accendere e spegnere questo è il nostro microfono vedete carino è come quello del supermercato per dare gli annunci e poi abbiamo una carta di credito che possiamo far passare qui dentro quindi nel lettore vedete si può anche firmare naturalmente la carta dei mini abbiamo i numeri possiamo mettere anche i nomi e ora vi faccio vedere quando l'accendo cosa succede vedete sul display abbiamo già il nostro zero e per esempio provo a mettere un qualunque prodotto sulla mia cassa io ho una pila in questo caso che posso schiacciando il cuore vedete e mi dà il prezzo 14 euro e 2 naturalmente questo sarà il prezzo che i nostri clienti dovranno pagarci e così aprirò la cassa vedete all'interno ci sono vari soldi ci sono naturalmente le monete di mini vedete con i vari numeri quindi abbiamo 3 4 5 con la m di mini e vari colori e anche vedete all'interno ci sono altri colori quindi altri altri numeri è un pochino piccolo in realtà non è che c'è tantissimo spazio e anche per le banconote come vedete abbiamo 20 30 però non è che c'è tanto spazio per tutte quelle diverse però vedete in ogni caso sono comunque piccolette carine decorate con la nostra mini che ci sorride sempre quindi diamo dei soldi di resto al nostro cliente ecco così chiudiamo la nostra cassa ed ecco qua è il prossimo cancelliamo per esempio appunto possiamo inserire il nostro prezzo a mano quindi se vogliamo mettere 8 euro e 79 apriamo di nuovo la cassa e tadan diamo il resto al nostro cliente chiudiamo bene avete sentito la musichetta e ora il devo vedere un attimino adesso come fare appunto per il microfono se io parlo prova prova devo capire appunto bene come funziona in realtà non lo so bisogna vedere anche le istruzioni e questo questo si attacca e poi vedete questo scanner in realtà è la cosa che trovo molto carina e ogni volta che lo schiaccio che schiaccio questo cuore mi dà come avete visto dei prezzi diversi e ancora 27 euro 29 per esempio ci sono anche altre funzioni che non ho fatto ancora vedere potete vedere per esempio con la penna come vi dicevo prima guardate qua se posso scrivere su questo su questo pezzo vedete non ci devono essere bolle naturalmente di sotto e poi posso scrivere vedete ecco qua così vedete anche voi 3 più 7 per esempio è uguale a 10 vedete sì ora così potete leggere anche voi e se invece vi decido che non mi interessa voglio cancellare ho bisogno di un altro calcolo rimuovo semplicemente riattacco e siamo tornati a zero e ora posso disegnarvi per esempio un bel cuoricino quindi possiamo giocare e fare tutto quello che vogliamo lì e quando abbiamo voglia cancelliamo e il microfono ora capite come funziona guardate bisogna essere un po' vicini naturalmente accendiamo e poi se se schiaccio il tasto la signora per favore avete sentito la mia voce cambia un po' eh e poi abbiamo naturalmente la carta di credito se appunto scanne faccio il prezzo e poi posso anche pagare con la carta sentite il rumore oh mi si è incastrata la cassa un momento forse devo ecco proviamo ora ah si era incastrata ecco qua ora possiamo aprirla e naturalmente dare il resto ai nostri clienti un'altra cosa molto carina è che se vedete soprattutto qui quindi sulle orecchie della nostra mini c'è uno spazio come una tasca e possiamo per esempio anche lì mettere alcune monete ed ecco qua chiudiamo di nuovo musichetta il nostro tappeto insomma credo che sia un kit davvero completo c'è un po' di tutto ed è molto carino si può giocare e scrivere tante cose insieme si può aprire la cassa naturalmente è molto carino perché ha tutti gli accessori legati a mini spero che questo video vi sia piaciuto naturalmente non vedo l'ora di leggere i vostri commenti qui sotto e continuate a seguirci sul nostro canale con nuove idee e con nuovi giochi alla prossima volta ciao 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 ciao